buongiorno buongiorno è arrivato il fatidico giorno di provare a montare la nostra cuffia nuova è facile cuffia facile più facile di così saremo in grado anche noi speriamo ma anche perché bisogna imparare a fare le certe cose perché non si sa mai o si fa o si fa e quindi quindi c'è alternativa questa tutto poi nella confezione ti danno già tutto ti danno la cuffia tagliata col suo innesto la colla la colla che sicuramente è quella che ti attacca le dita sai sicuro le fascette e il grasso e una busta di grasso vi sdrai sotto la macchina e vediamo come va lui lo fa poi vado a controllare dopo quando è fatto ma allora primo passaggio guanti perché devo incollare la cuffia sul braccetto è già quello senza incollarmi le dita è una problematica il gatto che sta passando via o mi immergo è ci sei ma meno male se sei magrino eccentria si allora guarda tu sei attento agli occhi non è molto comodo però senti la bocca chiusa Più che altro gli occhi, praticamente si sta incollando tutto. Non è che ti ci restano i guanti? Ci restano attaccati? Sì, è aperta il fondo, non ci vedo più, è unito, tutta unita, tranne l'inizio che non riesco a farlo unire. Vabbè, ma non c'è problema, poi lo incollo dopo qua. Ma c'è di tutto, tranne che la fascetta. Il primo passaggio è stato fatto. Mamma mia, sei inquietante stesso così in terra. Ora, così non esco, mi servirebbero un paio di pinze e un cacciavite a taglio. Va bene. Aspetta, cerco le pinze e un cacciavite a taglio. Questa stella. Pinze e cacciavite a taglio. Non è difficile da fare. Ma? La difficoltà ora sta nel togliere la fascetta vecchia. cacciavite a taglio. Ci andrebbero? Sì. Un paio di tenaglie. Ci sono. Le tenaglie? A voglia. L'ho vista. L'ho vista. L'ho vista. L'ho vista. L'ho vista, ma... Si pinze. E qua c'è la cuffia nuova già incollata. Viè. Mamma mia amore il telefono. Fuori! Bip. Lo video? Just'ai oh. L'hai nevato? Sì, una. Vabbè, già una è tanto. Tutti i bulloni si svitano e tutte le cose si smontano. Non è che si levanti una ruota, no? Spero di no. Ah, il freno a mano non l'ho messo? Mettilo. Sai quante volte ho manato a fare? Stai riprendendo. Fai il ciaxi giro. Avvisa il ciaxi giro. Vabbè, metto il bip. Allora. Si toglie. Mamma mia. Cambio guanti? Cambio guanti. Cambierei anche il sistema delle fascette, eh? Si potesse. Hai visto, zio, com'è? Si. Ah, il telaio è completo là sotto. Non mi ero sbagliato. Il telaio è completo. È sul telaio. Però non ho fatto un lavoro fatto forte. Eh si. Non è che si può smontare tutta la macchina, eh? È andata? Zio, ho fatto! Ho fatto? Ok, perfetto. Adesso ci arriva il bello. Perché mi servirebbe un taglierino. Vado a prendersi. Senza... No, ma forse qua nella... Eh, forse qua non c'è. Forse qua. Però questa cazzo di cuffia qua continuano ad aprirla. Oh, ma qui è un video piano di beep, eh? Perché? Taglia! Taglia. Queste sono le vecchie fascette, giusto? Si. Ora aspettiamo la vecchia cuffia. È già qui. È un successo aver tolto quella. Aspetta. Non so da dove farla uscire. Eccola. Guarda. Da tutto il grasso che c'è dentro così vuol dire che... Non me ne entendo. Ah. E' bravo. Faccio schifo, eh? Oggi ci vuole la doccia con lo sgrassatore, eh? Non è qua. Una è sopra lì e l'altra è lì per te. E questo è quello che ha fatto di ritirarla. Per dire, infatti, lì dentro le metto di... Sì. Che è buona la prima. Te la metti, man mano la tiri con le pinze e si blocca. Si blocca. E allora puoi provare questa? Sì. No. Puoi provare questa allora? Adesso la proviamo. Tanto adesso vado giù. Metto il grasso. Eh, perché ce n'è poco, eh? Di grasso. Vedo cosa succede. Dice, il jeans era buono? Era buono. Era buono. Era buono. Io ero buono. Ero buono. Ah, sei sempre buono, dai. Via. Saluti, eh? Allora. Non aprivi sull'occhio, eh? L'occhio? Sugli occhi. Non aprire sugli occhi. No, no. Pensavo all'occhio... Stasera. Le forbici dove le ho messe? Eh, sono qua tutte ingrassate, eh? Allora. 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 Vado, eh? Guarda che bel grasso verde. Verde? No, è già niente. Ecco. Allora. Che lavorini. Ecco qui. Non è tanto, eh? No, no. I vecchi dicevano, te del pollo cosa mangi? Che mangi? Meglio un po' di grasso in più che le ossa, no? Giusto? Ma giusto. Non la sapevo. Ma di lì ce n'è? C'è qua o c'è il buco ancora? Ma forse un pochino sotto. A parte che, vabbè, girando... Sì. Bravo. Giù, giù, giù. Bravo. Ok. Via. Allora. Adesso... mi metto i guanti perché quello lì è appena incollato. Zio? Sì. Abbiamo anche l'assistente stamani. E' quello zio. Ah. Solo aggiungerci un po' di colla qua. Perché è già messa così? Sì, sì. Adesso però devo qua questo pezzo qua di fascetta. Sì. Di metterci una fascetta cercando di incollarlo. Perché lo mi sei incollato bene? Ah, ah, ah. Zio! Sì? Me la passi, per favore. Mi guarda la prima? Sì, sì. Di queste specialmente, eh? Ho pensato che non le hai detto? Buona la prima. Sì. Sì, ma quella va tagliata poi, no? Sì, sì. Questa sì. No. No. Se dicono che va così, andrà così. Mettiamo ancora un po' di colla, va? Ecco, la seconda fascetta. Quando c'è. Dici sei. Eh no, no, no. Ti dai scivolata, eh? Alla prossima Che ori è a posto Prova del 9 Proviamo ad andare un pezzo in giù Vediamo se intanto fa rumore Per ora C'è il vino Vabbè Non è messo in un bel posto Attento qui Che c'è quella pietra Sborgente Allargati un pelo C'è il precipizio Passato Un gocciolino lo fa Ma forse si dovrà anche ingrassare un po' Adesso vogliamo vedere Tanto di strada Ingrasso Questa è l'arma pietra Signori Ci abbiamo provato Ma Il rumore continua ad esserci Adesso Sarà qualcosa di più grave Non lo so Adesso Proviamo a sentire Davide E vediamo cosa ci dice Perché anche cambiando quella cuffia Ringrassando tutto Il rumore continua O magari dopo qualche chilometro Si ingrassa di nuovo Non è che ne abbiamo fatti Avremmo fatto un chilometro Vedremo Comunque Noi Vi abbiamo fatto vedere come si monta la cuffia Non è detto che sia una cosa giusta Però La cuffia è montata nella maniera corretta O forse non è quello il problema O forse non è quello il problema Siamo partiti da quello più veloce Andiamo Staremo a vedere Ciao Ciao